L'Aggiunta regionale ha approvato un provvedimento per la definizione di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale del paziente diabetico con l'obiettivo di affrontare il diabete prima che generi complicanze. Proposto dal Dipartimento Salute, il documento prevede la realizzazione di relazioni tra gli specialisti e servizi presenti sul territorio per assicurare la presa in carico dell'utente a livello terapeutico e assistenziale per il diabete di tipo 1 e 2 e per il diabete in gravidanza. Il percorso assistenziale si svilupperà all'interno dei servizi territoriali e con l'attivazione del servizio ambulatoriale dei service per garantire la continuità assistenziale riducendo i tempi di attesa delle attività ambulatoriali, delle liste di attesa per il ricovero e il numero di ricoveri inappropriati.